Consulente finanziario? No grazie, faccio tutto da solo. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Che poi sarei io? Sono consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. Quindi ti ricordo che se vuoi puoi vedere anche il video registrato poi sul mio canale YouTube finanza semplice e andarti anche a leggere lo script di quello che dirò sul mio blog, sul mio sito alfonoselva.it E ti ricordo, se ti piace, se ti piacerà questa puntata, se sei un vecchio ascoltatore, di lasciare una bella recensione su Apple Podcast, su Spotify, su Spreaker, insomma aiutami ad arrivare a sempre più persone con il mio podcast. Bene, ma torniamo al tema della puntata. Consulente finanziario? No grazie, faccio da solo. Tu dirai, ma che sei matto? Sei un consulente finanziario? Che stai dicendo? Però vedrai che se mi ascolti fino alla fine capirai il perché di questo titolo. Quindi oggi ti voglio spiegare come fare per curare i tuoi investimenti tutti da solo. Sì, sì, proprio così. Ti voglio dare tutti i suggerimenti che mi vengono in mente per fare a meno di quel rompiscatole del consulente finanziario. E alla fine dei giochi tutti dicono, ma che saprà mai più di me questo consulente finanziario? Non lo so, vediamo. Iniziamo, ti farò un elenco di tutte le cose che mi sono venute in mente e che mi vengono in mente che puoi fare senza un consulente finanziario. Non le commenterò uno per uno, altrimenti saremmo qua due ore e mezza, però te le dirò tutte una presa all'altra. Allora, partiamo dalla prima, la più classica. Mettere tutti i soldi sotto il materasso. Oppure fare trading online con le piattaforme che fanno pubblicità sui social. Comprare case per affittarle. Puoi investire in criptovalute e cercare di acquistarle al minimo per poi venderle ai massimi, no? Come fanno tutti quelli che dicono sui social. Puoi investire in opere d'arte, anche questa potrebbe essere un'opzione. Puoi comprare orologi di lusso per poi rivenderli quando sale il valore. Puoi investire in macchine d'epoca, questa esce spessissimo. Puoi comprare vino o champagne di marche prestigiose per farlo invecchiare. Puoi comprare oro. Puoi investire tutti i tuoi soldi in dollari o in franchi svizzeri, che tanto salgono sempre. Puoi comprare i diamanti da investimento, come hanno fatto molti risparmiatori negli anni passati, con risultati un po' dubbiosi. Puoi lasciarli tutti sul conto corrente perché non si perde nulla e, ricordati, la famosa frase non si sa mai quello che può succedere. Puoi mettere i soldi in posta, perché alla fine è il posto più sicuro dove lasciarli, visto che qualche banca è fallita nel passato e la posta è il posto più sicuro dove metterli. Puoi andare al casino e qui ti divertirai e provare a vincere tanti soldi con qualche puntata fortunata. E così, diciamo, farai la stessa cosa che dici di giocare in borsa. Puoi prendere una bella cassetta di sicurezza in banca e mettere lì tutti i contanti. Così neanche il fisco sa che avrai quei soldi. Puoi investire in azioni Amazon, come suggeriscono di fare alle varie operatrici che ti chiamano al telefono più volte al giorno. Oggi mi sembra già due o tre volte a me, non so a te. Puoi comprare quei famosi corsi venduti online su come diventare ricco, come fare trading online o come raggiungere l'indipendenza finanziaria in poco tempo. E tutto ciò con pochissimo sforzo. Poi una delle più classiche. Puoi investire i tuoi soldi in azioni della borsa italiana, perché tanto conosci l'azienda e sai che sicuramente non avrà problemi. Altra opzione importante è lasciare tutto il TFR nell'azienda in cui lavori, rischiando che se l'azienda fallisce, oltre allo stipendio, perdi anche il TFR. E qua c'è la più classica delle classiche di suggerimento. Puoi seguire i consigli di tuo cugino che ti ha detto che ha fatto i soldi comprando delle azioni su internet. Poi ci sono quelle un po' meno famose, come investire i tuoi soldi nell'allevamento di lumache. Oppure investirli nella coltivazione di bambù. Oppure puoi comprare tantissimi biglietti della lotteria con la speranza di vincere il primo premio. Potrebbe essere anche questo, un modo per fare tanti soldi in poco tempo. Potresti investire i tuoi soldi nel crowdfunding, e se non sai cos'è vatti a sentire qualche mio vecchio podcast, o anche investire i tuoi soldi nel crowdfunding immobiliare. E ultima che mi è venuta in mente, potresti investire i tuoi soldi sulla Cannabis Light. Come sicuramente ti sarai accorto nell'elenco che ho appena fatto, mi sono sicuramente scordato qualche indicazione importante e sicura per farti fare tanti soldi in poco tempo senza quel rompiscatole del consulente finanziario. Ma se vuoi scrivimi pure a info-alfonzoselva.it per segnalarmi quali casi, quali informazioni mi sono scordato e te ne sarò grato e magari ne farò un altro nel futuro. Ora dai, sicuramente avrai capito. Ho preso esempi seri ed esempi poco seri per ironizzare sull'affermazione che il consulente finanziario non serve a nulla. Sarebbe come dire il medico non serve a nulla perché tanto mi curo da solo su internet o l'avvocato non serve a nulla perché tanto scarico i template o le cose già quasi compilate su internet, ma non è così, lo sai. Ma non ho finito. Per farti ancora, diciamo, pensare, perché mi serve sempre farti pensare, poi sei tu che trai le tue conclusioni, ti voglio anche dire cosa faccio io e cosa magari dovresti fare anche tu per capire come scegliere fra tutte le varie opzioni che ti ho indicato. Soprattutto scegliere fra quelle sedie, chiaramente, non fra quelle, diciamo, molto stupidine, usiamo questa parola. In questo modo potrai copiarmi e fare tutto da solo. Non c'è problema. Anche qui ti faccio un elenco che sicuramente non è completo e anche in questo caso, se vuoi, iscrivimi per dirmi cosa manca e te ne sarò grato. Allora, una delle prime cose che faccio è studio tanto. Sì, sembrerà strano, ma nel mio lavoro, come in tutti quelli degli altri professionisti, bisogna studiare tanto. Studio da solo. Studio con i corsi della banca con cui collaboro. Studio con i corsi delle società terze, quindi non quelle della banca con cui lavoro, che sono società gestori di patrimonio, che uso per collocare clienti. Studio con i corsi obbligatori da fare ogni anno per essere iscritto e rimanere iscritto all'albo dei consulenti finanziari Ocf. Leggo il sole 24 ore tutti i giorni e ascolto o guardo trasmissioni o video o podcast in cui parlano di economia e finanza. Anche se, come dico sempre, le notizie di tutti i giorni sono solo rumori di fondo, però bisogna essere sempre informati, bisogna sapere, non si può non saperle. Leggo libri di economia e finanza. Incontro i clienti nuovi per fare un piano che comprenda tutte le esigenze, personali, familiari, aziendali, e includa sia gli investimenti che la tutela assicurativa. E poi, non ce lo scordiamo, importantissimo, incontro i già clienti per informarli dell'andamento, di come stanno andando i loro piani che abbiamo fatto insieme nel passato, e controllare se siamo sulla rotta giusta, altrimenti facciamo qualche piccola variazione, se serve. E un'altra cosa importantissima qual è? Gestisco l'emotività dei clienti. Sia quando tutto sale e c'è tanta euforia, e sia quando tutto scende e c'è tanto panico, come in questo periodo. Poi non ci scordiamo che durante il giorno rispondo alle telefonate, alle mail per chiarire dubbi, per dare info sul conto corrente, per dire cosa fare se si perde la carta di credito o il bancomat, e ogni altra assistenza al cliente. Beh, se mi copierai in tutte queste indicazioni che ti ho dato fino ad ora, potrai finalmente fare a meno di me, o di qualunque altro consulente finanziario, senza problemi. Questa volta mi piacerebbe molto che tu commentassi questo mio podcast, anzi video podcast, e ti aspetto alla prossima. Come sempre, per una consulenza gratuita con me, vai sul mio sito alfonsoselva.it e fissa un appuntamento sia online che di persona nei miei uffici in banca. Alfonso Selva, consulente finanziario Roma. Ciao, e ci sentiamo alla prossima. e ci sentiamo alla prossima. e ci sentiamo alla prossima.